mi dispiace con il cuore in mano dirvi che dopo la risposta di questa persona che conferma che non sono pazza perché tu mi ci hai fatto diventare sono costretta a pubblicare il resto del video ti avevo chiamato per dirti di non fidarti di questa ragazza che è una bugiarda compulsiva cleptomane ti avevo chiamato per avvertirti tu hai voluto comunque fidarti di lei di bugie di cose che non sai mi dispiace e mi fa schifo perché non mi sono scopata il ragazzo di nessuna mia amica mi fa veramente schifo e adesso pubblico il resto del video dove racconterò solo di questa storia perché se dovessi raccontare anche di altre storie e la verità viene sempre fuori insieme a tutti gli screen che usciranno di te che parli con altre ragazze mentre stavi con me mentre io chiudevo 500 pacchi per il tuo brand senza dormire notti e giorno per realizzare tutti i tuoi sogni avresti potuto mollare il colpo e chiedermi scusa per quello che hai fatto perché è davvero basso e vile invece ti sei voluto fidare di una persona che neanche conosci ti sei voluto fidare di una persona americana che cerca solo vendetta come nei film bravo e al principio di questo come ti permetti di venire a fare lo stalker della mia vita dopo che io ti avevo lasciato dopo che la nostra storia era già finita questa storia io la sto raccontando solo perché sei un vile ciao Grazie a tutti.